Ampio turnover nei 32esimi di Coppa Italia a Gavorrano, Barberini è in porta, maglia da titolare per Baldesi e Caprio, esordio dal primo minuto per Simonti. Ci sono anche Regolanti e Sacchini, entrambi appiedati in campionato. Riposo per Zar, Farini e Disegni. Grande rivoluzione anche in casa follonica Gavorrano, reduce dal pari col Grosseto. Cronaca rinnovata dopo appena un minuto, Barlettani impatta di testa su corner, palla sul fondo. Meglio di lui Pino, un giro di lancete dopo, a seguito del recupero di Sfera sulla trequarti. Barberini stavolta è salvato sulla traversa. Lassangio prende però le misure, sfiora la rete in ripartenza, cross da sinistra di Nannini, Caprio supera Bianchi sulla linea D'Agata, salva il risultato. Si rivedono i padroni di casa, minuto 39 nel finale, incursione di Lepri, palla oltre il montante più lontano. Da parte opposta invece ecco il gol di Regolanti, colpo di testa in anticipo su Bianchi, sul traversone di Massai e Marzocco in vantaggio. Fino all'intervallo inizia la ripresa, come nel primo tempo è un colpo di testa, stavolta di Brunetti a cercare la via del gol per i padroni di casa. Barberini le spinge. La punizione con le tre dita di Regolanti, minuto 16, palla che è Sibila, non lontano dal palo della porta a Maremmana. Mettono forze fresche i padroni di casa, altro colpo di testa, stavolta di Marcheggiani. Barberini stavolta ancora c'è. La contraerea azzurra subisce anche l'incornata di Barlettani, c'è però controllo sulla traiettoria. Lo Sicco da palla ferma però, minuto 33, replica il gol di domenica col Grosseto e così. Ecco il pari di casa, uno a uno. E nel terzo dei cinque minuti di recupero, il neo entrato Pignat indovina il raso terra che passa tra la selva di gambe e sigla il sorpasso. Follonica e Gavorrano e sedicesimi, dopo questo due a uno.